segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te allora abbiamo in linea michele santoro che credo sia ancora a lampedusa per ripartire e che credo che non abbia visto il pezzo di trasmissione il servizio ma voleva fare una rettifica quindi io lo metto subito in linea e ascoltiamo michele buongiorno a tutti sono in partenza lampedusa e come è stato detto premetto che non ho potuto vedere il servizio non sono abituato a criticare cose che non ho visto personalmente però siccome ricevuto tantissime telefonate quello che posso dire in questo momento pronto eccoci siamo qua michele ti ascolto quello che posso dire in questo momento è che considero una scorrettezza giornalistica molto grave montare sulla giornata di ieri una cosa che riguarda commemorazioni che non hanno niente a che vedere con la giornata di ieri che sono commemorazioni per la ricorrenza del giorno della vittoria in Russia e che non hanno nessuna relazione di nessun tipo con la manifestazione che è stata fatta ieri dal movimento pacifista chiamata scattetta dell'umanità una volta che avrò visto il servizio mi riservo di valutare la gravità di questo episodio che sta già nel fatto che si sia deciso di montare insieme questi due allora permettimi solo di spiegarti michele scusami perché non voglio non voglio perché non voglio raccontare tutte le cose poi tu valuterei per la tua intelligenza però scusami mi fermo qui vi saluto buongiorno michele però senti la replica perché non va bene no scusami allora faccio lo stesso la replica poi michele si vedrà la trasmissione più tardi punto primo erano una strana coincidenza erano entrambe le manifestazioni la staffetta è tutta italia ma a roma c'erano tutte e due il nostro inviato era a roma ha messo insieme le immagini ben specificando addirittura chiamando il servizio guerra e pace noi consideravamo la parte diciamo proputi in quella guerresca e la parte della staffetta della pace invece una sincera manifestazione pacifista punto primo punto secondo mi risulta di aver lanciato il servizio davanti ammonio vadia che era qui con noi che aveva fatto una piega nonostante sia stato un partecipante la staffetta della pace dicendo naturalmente nulla c'entrava con voi quella manifestazione che riguardava appunto la brigata dei mortali la vittoria contro hitler dei russi e la manifestazione di putiniani perché abbiamo il titolo loro voci che erano molto differenti dalle altre l'ho detto lanciando il servizio dopodiché sa facciamo una quotidiana quindi per noi la cronaca è sempre molto intrecciata però insomma mi pare che sarebbe stato carino ascoltare la mia replica e e e e e e